amici miei non dimenticate mai quello che è il vostro ruolo in nella società siete arrivati all'apice di una carriera avete avete conquistato posizioni diciamo di di rilevanza pubblica c'è un ruolo che voi dovete dovete interpretare vi dovete comportare adeguatamente al ruolo che avete raggiunto il ruolo ricordatevi il ruolo non fate finta di essere un cittadino qualunque quando avete un ruolo anche istituzionale grazie a tutti